In suo onore, faccio una sorpresa, una doppia sorpresa, la prima oggi, la seconda credo tra domani e sabato, ma la prima è questa. E ora, come si dice in Twin Peaks, è come dice il nostro Dale Huber in Twin Peaks, il nostro caro agente del FBI, e anche Gordon Gordon, se non mi sbaglio, il suo personaggio. Anche un buon caffè, anche un brutto caffè, dopo tutto, è meglio di nessun caffè, è vero, ma il caffè napoletano, signori, il Dale Huber è limitabile, imbattibile. Anzi, un caffè, che qua si pronuncia così, senza la doppia F, F, così semplice. Sì, non sono ovviamente professore di grammatica, d'italiano, quindi non è che possa spiegare tre quarti d'ora, perché si pronuncia così, comunque si pronuncia così. Anche la frase, poi, che compagna, è tutto. Prendiamoci un caffè, prendiamoci un caffè, poi la O, che l'O davanti, O sarebbe l'articolo, il, con l'apostrofa, O con l'apostrofa. Cioè, o con un accento accanto, voglio dire. Poi questa, pigliamoci un caffè, prendiamoci un caffè, insomma, è anche un'espressione per dimenticarsi le cose brutte, che succedono. Pigliamoci un caffè, scusate. Meglio lasciar dimenticare certe cose brutte che sono successe, meglio prendersi un caffè. Per cui, pigliamoci un caffè, infatti adesso lo berrò, berrò per lei. Dunque, adesso, lo berrò finalmente per lei. Allora, pegiamoci questo caffè, il suo onore. Un momento straordinario. Eh sì, non è rimasto nulla qui. Eh sì, non è rimasto nulla.